Ci sarebbe l'accordo per affronteggiare le spese correnti, ci sarebbe l'accordo tra dirigenti e persone vicine alla nocerina per non peggiorare una situazione già di per sé complicatissima. I molossi a Grosseto scenderanno regolarmente in campo e il rosso-nero sul rettangolo verde ci sarà, anche se rimane il problema del 42% delle quote societarie sequestrate, anche se resta la carenza di liquidità dovuta anche dai mancati incassi delle ultime partite interne vista la diminuzione forte del numero degli spettatori presenti per via dello sciopero di parte della tifoseria. Decisa anche la chiusura del rapporto con almeno 6-7 calciatori presenti nell'attuale rosa, un modo necessario per attutire i costi di gestione e con il conseguente passaggio in prima squadra di alcuni ragazzini della Berretti. Un ridimensionamento necessario che però potrebbe non piacere assolutamente al tecnico Fontana già di per sé alle prese con notevoli problemi. In casa Paganese, mister Belotti invece dovrà fare di necessità virtù rispetto alla lista di squalificati e infortunati per la gara di Ascoli. Si è rivisto nel gruppo ieri il brasiliano William, giocatore sul quale la Paganese punta senza mezzi termini per risalire la china. Saranno disponibili anche Amelio e Beretta, ma c'è da valutare la condizione di altri giocatori che in questi giorni hanno avuto la febbre o comunque colpiti da forti stati influenzali. Chi ad Ascoli domenica vorrebbe esserci, pronto magari a prendersi una maglia da titolare, pronto a fornire il suo contributo, Laurent Lanterie, francese ma senza puzza sotto al naso, con la sola voglia di dimostrare tutto il suo valore che finora è rimasto solo sulla carta. Lanterie è pronto, consapevole della fiducia che la Paganese gli ha concesso, del fatto che la dirigenza l'abbia atteso per tempo, cercando di fargli recuperare la forma giusta, di superare lo scoglio di un infortunio fastidioso che l'aveva già bloccato in passato. Allora, possiamo dire che è il momentaccio che ha vissuto alle spalle? Sì, sì, possiamo dirlo. Adesso mi sto allenando con continuità, anche se per troppo settimana scorsa ho avuto la febbre, ma tutto sta andando bene. Hai avuto una stagione così travagliata a livello di infortuni? Sì, l'avevo avuta a Mezze che mi hanno fatto operare a Pubalgia e quando sono nata mi sono rotta a Caviglia, però questo è stato l'inizio molto duro qua a Paganese, colpa di infortuni e non per il resto. Quanto manca per vedere il Lanterie dei tempi del Legnano? Speriamo poco perché anche io voglio soprattutto ritrovare continuità, tempo di gioco e aiutare la squadra perché penso di poter dare un contributo. La prima cosa è noi, i giocatori che andiamo in campo, noi che dobbiamo dare di più e anche essi delle volte abbiamo fatto vero delle buone prestazioni e noi abbiamo raccolto i tre punti, però siamo noi che scendiamo in campo e tocca soprattutto a noi far bene e far meglio. Ma quanto senti la fiducia della società? Ho parlato con il direttore, con il presidente e spero di ripagarla, soprattutto il più veloce possibile. Grazie. 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 Grazie.